Una canzone d'amore, solo per te, solo per te, solo per te, solo per te, solo per te. Grazie a tutti questa sera. Grazie Vittorio. Siamo ai saluti anche noi ragazzi, siamo ai saluti, l'ultima coppia, l'ultima coppia a nascere dall'isola. Ragazzi vi presento il prossimo tentatore di Temptation Island. Iari Romano DJ. Mi raccomando guardate, mi danno un prossimo, sono già lì.